buonasera a tutti oggi ho il piacere di avere in studio il professore nicola marizio che è docente associato di criminologia all'università core di enna è un mio amico io lo ringrazio per essere qui presente in studio nicola marizio è un grosso esperto quindi con lui parleremo soprattutto della strage di altavilla che ha colpito parecchio l'opinione pubblica rimangono parecchi dubbi e chiaramente vi sono delle indagini in corso la materia che chiaramente naturalmente perlomeno il fatto è oggetto di studio presso le università e non solo io volevo allora capire qual era il parere di un professionista di un criminologo come nicola marizio ed ecco perché è qui in studio con me che ringrazio nuovamente allora nicola grazie allora questo è un omicidio un plurio omicidio complesso molto raro e in criminologia e vittimologia e poco annoverato tenuto conto di tutti gli elementi fino adesso in possesso degli organi investigativi della procura della repubblica di termini in merese che stanno lavorando in maniera profonda appunto su questo caso il mio parere che si tratta di un fenomeno che ripeto è molto raro soprattutto in criminologia può accadere come può accadere di tutto nella nostra società ma ritengo che sia la criminogenesi cioè che cosa ha dato origine a questo crimine e la criminodinamica come si è svolto ecco sarà sicuramente oggetto di informazione pubblica immagino nei prossimi giorni anche perché questo lavoro è particolarmente complesso per gli organi investigativi e ci sono attualmente persone in carcere ma ci sono anche tre vittime per cui bisognerà approfondirla molto bene io ricordo scusate le parole del mio maestro il professore che è tal in grassia mi diceva che quello che noi vediamo sulla scena criminis molto spesso non sia riconnette alla realtà e questo per me è stato un insegnamento che ha guidato anche questa mia professione quindi fermarsi a quello che una scena criminis offre è davvero limitativo per cui bisognerà ancora indagare e capire quali sono state le motivazioni per adesso abbiamo tutti un po sommarie informazioni ma quello che io ho registrato è che l'opinione pubblica è rimasta molto colpita dalla tipologia di omicidi dall'efferatezza soprattutto dalla crudeltà che è stata inflitta un po guardando a quello che era l'inquisizione nei tempi passati la caccia alle streghe e soprattutto inferire sui corpi di queste vittime le motivazioni ognuno di noi si sarà fatto sicuramente un'idea ma da criminologo io lascio un ventaglio di possibilità aperte e di ipotesi aperte per la riva possiamo capire a che punto sono le indagini investigative perché la macchina abbastanza complessa ma poi tra l'altro c'è un'esposizione mediatica di cui ti vorrei anche chiedere per capire se è produttiva se finisce per insomma in un certo senso intralciare le indagini questa presenza presenza costante costante delle televisioni dei giornalisti non sarebbe il caso di fermarsi un attimo e riflettere per fare operare in maniera più tranquilla gli operatori della giustizia per quanto riguarda il caso di specie proprio perché è molto raro questo caso omicidiale c'è una attenzione maggiore purtroppo siamo abituati ogni giorno a sentire notizie di femminicidi di persecuzioni di stalker che non riescono a indietreggiare e che poi alla fine uccidono ma dico una cosa che sicuramente non è una cosa bella o non è una cosa positiva con più o con quasi 4000 donne uccise dal 2000 al 2024 forse la gente ci ha fatto anche l'abitudine a sentire non li approfondisce più mentre in un caso del genere omicidio esoterico chiamiamolo così ma comunque poi deve una definizione ancora più precisa l'attenzione è maggiore la gente vuole saperne di più ecco perché i salotti dei network nazionali sono frequentati ma dicono perché la gente segue così in grande interesse queste dice ma perché è la criminologia come scienza e la vittimologia che attrae allo stesso modo come attrae numerosi studenti ormai la criminologia in sicilia si è spostata all'università core per cui tutti coloro i quali sono un po affascinati e vogliono sapere vogliono conoscere eccetera si scrivono nei nostri corsi all'università per cui lo fanno i ragazzi ma lo fanno anche gli adulti perché un po tutti sono appassionati mentre quando ricordo che quando all'inizio il professore ingressia incominciò a parlare di criminologia c'era solo nicola malizia che lo seguiva e un'altra assistente di cui non ricordo il nome perché ricordo che abbiamo fatto allora qualche trasmissione televisiva ed era praticamente una voce nel deserto non si capiva perché tra l'altro un laureato in medicina si interessasse di criminologia non immaginando l'importanza che poi questa materia di studio doveva avere nel 2024 ma questo anche ricordiamo a quei tempi chiaramente sono trascorsi quasi 30 anni fa ma questo anche a causa di una esposizione mediatica e di programmi di approfondimento ecco perché la gente è attratta da questa disciplina dalle investigazioni. Ti devo dare merito e atto che tu seguendo poi gli insegnamenti la polla idea del professore ingressia anche tu hai avuto ragione io ti ho sempre creduto forse sono stato tra i pochi grazie grazie comunque queste queste sono attualmente definite discipline veramente di grande interesse anche perché la tecnologia è andata avanti e ha permesso alla criminalistica di fare adesso analisi più diciamo così più approfondite e allo stesso modo diciamo così la psicologia criminologica che si intreccia con la criminologia qui ecco perché è diventata e quindi non dobbiamo stupirci assolutamente se oggi su questo caso di altavilla molto tragico c'è un po l'attenzione c'è un po l'attenzione di tutti sicuramente è stato un fatto grave macabro intenso violento probabilmente non bastano neanche più gli aggettivi per definirlo ma è sicuramente colpito a parte per la parte vittimologica per cui una donna il figlio di 16 anni e un bambino di cinque anni sono stati colpiti in maniera violenta almeno queste sono diciamo così le notizie che noi abbiamo peraltro sabato scorso è stato sono stati compiuti gli esami autoptici sui corpi delle vittime hanno rilevato hanno fatto rilevare davvero un accadimento fuori da di capire che ancora sono in corso altissimi assolutamente peraltro adesso c'è allora i tre che sono in carcere si si accusano vicendevolmente la coppia di palermo accusa il barreca il barreca protegge la figlia la figlia a questo punto dice che sono stati che è stata la coppia di palermo insomma ancora c'è molta chiarezza da fare su questo argomento ma soprattutto capire qual è stata la reale motivazione perché ripeto è stato detto sin da subito si tratta di un comportamento relativo ad una ad un fanatismo religioso ma bisogna stare anche attenti a questa cosa perché potrebbe essere strumentale al farlo religioso ci potrebbero essere invece potrebbe mascherare qualche altro punto altri motivi che ancora saranno oggetto sicuramente l'investigazione a questo punto io ti devo fare una domanda che la genitore non non avrei voluto fare si è capito bene il ruolo della figlia perché io se adesso non sono riuscito a comprendere nulla ma il comportamento della fia o meglio ancora la personologia della fia credo che sia oggetto di particolare interesse di studio da parte della procura della repubblica dei minori perché ricordiamo che questa ragazza aveva 17 anni proprio per la sua efferatezza per il suo comportamento durante l'azione omicidiaria in effetti è un soggetto sui generis il procuratore della repubblica di tarbini maresa è molto attento ha già fatto capire che si tratta di una persona un po fuori dal comune nel senso una persona molto sensibile una persona ma questa sensibilità verso la conservazione della vita della madre o dei dei fratelli in effetti non è stata posta in estere e poi bisogna capire veramente quali sono le reali motivazioni lei ha fatto una sorta di confessione dinanzi al procuratore della repubblica dei minori dicendo ribadendo la necessità di aver infierito di avere contribuito anzi sui corpi delle delle vittime che avrebbe rifatto tutto perché la casa era infestata e quindi si siamo nel campo della possessione diabolica sarà vero non sarà vero possibilmente la possessione diabolica è stata solo una strategia per raggiungere altri obiettivi in questo momento non lo sappiamo possiamo semplicemente esprimere delle opinioni delle impressioni ma non abbiamo ancora nessuna certezza e poi bisognerà stabilire il ruolo anche della coppia di palermo si è parlato di sacchia statale è stata conosciuta poco tempo prima questo è un altro fatto ed è stata cercata non dal barreca ma dalla moglie antonella che è stata poi uccisa tant'è che si erano a quanto si è saputo si erano messe in affari perché vendevano prodotti di cosmetica e quindi queste due persone partono da palermo si stabiliscono lì quasi per una settimana nella villa e poi succede quello che noi tutti purtroppo sappiamo io ho una sensazione che probabilmente all'inizio ed eravamo proprio l'inizio della settimana tragica queste due persone probabilmente riunendo tutta la famiglia del barreca eseguivano probabilmente solo delle preghiere e fino a lì tutto andava bene ma di preghiere di liberazione da satana ma quando sono cominciati gli episodi di violenza antonella cioè la donna uccisa la moglie del barreca voleva fermare questo tipo di violenza tant'è che dice alla figlia chiama subito i carabinieri perché qui la situazione sta precipitando e la figlia a questo punto fa pensare che le violenze stavano compiendo la coppia ma a questo punto la figlia in questo momento ancora non è entrata in campo e no è ma il problema è che la figlia invece di chiamare i carabinieri ha sequestrato i cellulari di tutti se li è portati praticamente nella stanza ci sia la responsabilità diciamo nella figlia è fuori di dubbio però dico sull'azione materiale che può essere incolpato ma la coppia oppure i familiari secondo me hanno avuto dei ruoli diversi allora il barreca sicuramente era quello che portava avanti la tesi che la casa fosse infestata da satana e che in particolar modo la moglie con i due figli maschi era un oggetto di possessione diabolica per cui gli possiamo dare il ruolo di propositore la figlia ha collaborato e i due sono stati probabilmente gli ispiratori probabilmente siamo semplicemente nel campo delle ipotesi voglio sottolinearlo probabilmente la coppia che aveva già un'esperienza come come coppia di di preghiera si facevano chiamare quanto pare sorciuti di dio eccetera ma non siamo neanche nel campo dell'esorcismo perché l'esorcismo è un'altra cosa tant'è che l'avvenire il giornale avvenire ha subito il giorno dopo questo massacro ha subito io l'ho letto pubblicato un articolo dicendo guardate che il caso di altavilla con gli esorcismi non c'entrano assolutamente niente questi sono esorcismi fai da te perché le preghiere di liberazione da satana e quindi compiuta attraverso gli esorcismi seguono sicuramente un altro protocollo e fatte da persone che hanno realmente dei dei poteri per compierli questi esorcismi qui stiamo parlando di una coppia che già aveva una una situazione economica personale e quotidiana diciamo così molto precaria per cui antorella li ricontatta questi vengono ad altavilla e cominciano piano piano a proporre questa liberazione ora sinceramente non riconosco a questa coppia poteri per compiere esorcismi ma dico mi potrei anche sbagliare ma la cosa che ha maggiormente colpito è che si sono rifatti ripeto ai protocolli dell'inquisizione se si possono chiamare protocolli utilizzando delle tecniche molto invasive di carattere corporeo perché mettendogli il phon acceso sul viso di antonella satana avrebbe dovuto lasciare quel corpo dico siamo sugli esorcismi fai da te che non costano praticamente a proposito di questi appunto azioni che hanno compiute la criminodinamica che cosa ci dice che cosa hanno subito realmente hanno subito l'altra domanda te la pongo assieme se tu dovessi identificare un capo di tutta la vicenda secondo te il capo è il padre la figlia o le coppie c'è chi è la mente pensante rispondo alla prima domanda sono state inflitte queste a queste tre povere anni delle torture molto invece per capire se il tipo di tortura dato che ne stavi parlando si indicava qualcosa di più preciso se allora a quanto pare queste sono le notizie che tutti tutti hanno quindi non solo noi sono state utilizzate delle catene sono state utilizzate delle padelle da cucina quindi in maniera anche molto rudimentale queste queste armi e poi eh la strumentazione che serve per accendere il camino per spostare eh la legna dentro il camino era rovente quindi probabilmente ci saranno state eh bruciature e poi eh calci insomma ecco tutto questo avrebbe dovuto eh avrebbe dovuto scacciare via dal corpo e dalla casa eh satana ora eh pensare ad una cosa del genere credo che sia e pensare soprattutto a queste a questi strumenti così rudimentali ecco sinceramente mi fa pensare che tutto è stato eh improvvisato eh lì al momento ma dalle preghiere si è passata si è passato alla violenza e questo è questo è questo è questo è stato quello che eh particolarmente ha colpito ma devo anche registrare eh diciamo così personalmente anche un disappunto rispetto a quello che doveva essere probabilmente il ruolo delle persone che stavano intorno a questa famiglia poi mi chiedo cinque giorni questi ragazzi non vanno a scuola ma gli insegnanti la scuola gli assistenti sociali e eccetera cioè io non ho visto nessun intervento soprattutto il bambino di cinque anni credo che non ci siano state neanche delle comunicazioni ma non lo posso non lo posso dire probabilmente ci siano state delle telefonate probabilmente la scuola avrà chiamato e io non voglio ci mancherebbe probabilmente la scuola avrà chiamato e allora non lo rispondevano perché i cellulari erano sequestrati dalla figlia la figlia a proposito della domanda che mi hai fatto arriveste secondo il mio modesto punto di vista un ruolo direi fondamentale non dico ispiratorio della violenza ma quantomeno un ruolo fondamentale e mi colpisce molto l'assenza di pietà che questa ragazzina non perché si parla di una ragazzina di 17 anni che non prova nei confronti di un bambino di cinque anni che il fratello di un fratello più grande di 16 anni ma soprattutto della madre allora mi chiedo dov'è questo legame biologico affettivo tra madre e figlia non esisteva e questo mi porta a pensare o a fare altre considerazioni che naturalmente non posso estendere perché ci sono le indagini in corso e ci mancarebbe mai semplicemente un'idea strettamente personale dico a questo punto penso che ci sia nell'altro senti poco fa abbiamo parlato del fatto che l'argomento è oggetto di studio che la mente all'università tu ne avrei parlato con i tuoi studenti che sono mostrati sicuramente interessati probabilmente anche loro stanno studiando il caso per cercare di trovare delle soluzioni o perlomeno tu avrei dato come dei compiti specifici la dico il l'argomento della criminologia satanica che il ruolo a riveste all'interno del tuo corso di studi viene trattato come sembrava che fosse un argomento ormai no no assolutamente ma io l'ho mantenuto sempre in vita perché è una possibilità e la criminologia studia le fenomenologie sataniche dal punto di vista diciamo così strettamente omicidiale di acting out cioè di passaggio all'azione soprattutto al punto di vista della vittimologia ed è ormai diventato da più di una settimana un argomento costante con i ragazzi proprio ieri abbiamo ospitato alcune classi di un liceo una sorta di orientamento poi agli studi ai ragazzi che sono al quinto anno dice mi chiedevano professore ma lei che cosa ne pensa di questo perché noi ci siamo fatti una nostra idea e ci ha molto colpiti questa disaffezione della figlia nei confronti di una scena così macabra eccetera è quasi quasi una forma di collaborazione alla realizzazione del di questo pluri omicidio a questa è una cosa che ha colpito molto i ragazzi e ha colpito il fatto che anche questo ragazzo di 16 anni non si sia potuto divincolare possiamo dire dalle dalle pressioni e questo mi fa pensare che fisicamente appunto questo mi fa pensare che erano più persone che si accanivano nei confronti di questo ragazzo perché il bambino posso anche comprenderlo che non ha la forza necessaria per sfuggire alla violenza ma un ragazzo di 16 anni e poi guardandolo dalle foto ho visto che era insomma abbastanza alto robusto non era stato drogato ma questa è una domanda che mi sono posto anche io effettivamente se per caso fossero stati oggetto di sottoposizione a sostanze superfacenti c'è ad esempio la dietilamide dell'acido disergico che è meglio conosciuta meglio conosciuto come lsd 25 che dà questa forma di alterazione uditiva percettiva e visiva addirittura i soggetti che fanno una realtà questo sì l'alterazione alla realtà ma vedono ci sono anche le allucinazioni zooptiche cioè vedono piccoli animali che poi sotto effetto di questa sostanza diventano grandi come una casa e li ingoia tanto a questo io ho fatto peraltro anche diciamo un'altra valutazione ancora le analisi non danno non danno ancora non hanno avuto risultati risultati significa questo che tutti erano sottoposti a questo tipo di sostanza forse tranne le vittime senti volete tornare un attimo all'argomento che tu avevi accennato c'è nessuno aveva compreso nulla cioè oltre che la scuola i parenti tra l'altro mi colpisce il fatto ma questo è un discorso più generale cioè quando avviene un femminicidio una strage immediatamente spuntano dai parenti che sono pronti ad essere intervistati contro ogni diciamo posso dire ogni facile immaginazione senza avere nessun timore reverenziale superando appunto l'emozione la rabbia come si spiega questo comportamento dei parenti che accettano di essere intervistati subito dopo un fatto così cruente ma quello che mi ha colpito molto e che questa che per questa strage per questa tragedia hanno parlato le amiche della moglie cioè le amiche di antonella la moglie del barreca perché i parenti quanto mi risulta erano in altitalia e quindi non erano presenti poi loro vivevano non dentro il paese di altavilla ma immediatamente fuori in questa sorta di casa degli orrori così è stata ormai battezzata e qualcuno però ritengo aveva notato una cosa che mi ha particolarmente colpito che ho ascoltato ieri sera un altro programma è che antonella e il barreca quanto pare insomma erano in una fase di separazione per cui questa è una cosa che mi ha particolarmente colpito lei diceva che insomma poco i sentimenti si erano spenti non c'era più nella coppia quella armonia eccetera per cui lei stava pensando di separarsi dal barreca ma nello stesso tempo rifletteva sul fatto che sarebbe rimasta poi fondamentalmente da sola perché i figli avrebbero preferito stare col padre e non con lei questa è una cosa detta pubblicamente ieri su una rete nazionale ed è una cosa però che mi ha fatto particolarmente riflettere perché vuol dire che la coppia era in disarmonia e quei parenti che affrontano subito dopo un fatto così grave che si affrontano tranquillamente i microfoni per essere intervistati non mostrando né emozione né rabbia nel nulla come si spiega questo questo atteggiamento ma questo è un atteggiamento più intimi ma questo è un atteggiamento molto molto personale e ci sono alcuni che stanno lontani dalle telecamere perché hanno paura di dire cose che potrebbero anche intracciare le indagini per ci sono quelli che invece la rivendicano quelli che cercano giustizia insomma il pubblico degli intervistati e dicevano le carità anche in questi grazie oppure cercano notorietà come in molti casi senti non abbiamo parlato delle sette in generale sì io dicevo poco fa credevo che non ci fosse più questo pericolo invece tu sostieni che siamo un pericolo da una ricerca fatta nella sicilia come si caratterizza per la presenza di sette chiaramente se in italia sono state censite 507 che non sono poche con diverse migliaia di appartenenti e di adepti e di questo bisognerebbe fare una riflessione mentre la sicilia ma in sicilia ci sono più dei gruppi organizzati e il caso specifico sta in un certo senso allargando l'indagine in sicilia sulla presenza o meno di sette riconducendo la coppia palermitana che ha non sappiamo a quale titolo partecipato a questo massacro si pensava che appartenesse ad una ad una setta ora non so effettivamente gli sviluppi di questa indagine e probabilmente queste due persone sono entrate nella vita del barreca a vario titolo diciamo così e non sappiamo se sono due persone autonome se fanno parte di una setta se c'è qualche se c'è qualcos'altro oltre la loro la loro eventuale affiliazione per cui è tutto in fieri ancora non ancora non senti un ruolo importante non avuto i social quello che si è potuto capire e poi in sostanza perché è stata la moglie quest'antonella che ha contattato i due si erano già conosciuti dicono poi e tramite social hanno mantenuto questi rapporti che in sostanza ti fa pensare che lei è stata vittima di se stessa e si è come se avesse invitato a casa il proprio omicida il proprio omicida però ripeto loro si sono dichiarati innocenti ma questo non spetta sicuramente a noi stabilirlo ci pensava ci sarà la magistratura ma io ritengo che debba essere fatta chiarezza sul ruolo di ciascuno certo sono tutti diciamo inquisiti di ciascuno ecco bisogna stabilire con esattezza il ruolo di ciascuno quindi del barreca della figlia e della coppia certo è ripeto voglio ripetirlo che questo ragazzo a 16 anni non è riuscito a sfuggire a questa furia quindi quante persone erano su di lui il bambino va bene il bambino non ha la forza questa donna la moglie del barreca completamente sopraffatta insomma che cosa è successo ma soprattutto che cosa c'è alla base perché sì si è parlato di fanatismo religioso si è parlato di esorcismi si è parlato di liberazione eccetera ma io ritengo che si debba ancora di più capire qual è stata veramente l'origine c'entra satana non c'entra satana c'erano altri interessi c'erano altre situazioni per cui questa famiglia dovesse essere diciamo così smembrata il fatto che la figlia sia stata risparmiata non so se è stata risparmiata o meno ma avrà avuto sicuramente la modella molto importante altronde tu ora ti sei tradito nel senso che hai agito da perfetto criminologo quindi hai posto degli interrogativi che sono a base alla base della tua professione sono gli insegnamenti che tu impartisci ai qualche altro tuo collega mi ha fatto una domanda nelle varie interviste che io ho rilasciato velocemente parlandomi di eventuale la presenza di patologia psichiatrica nel barreca io dico che solo la psicosi o il disturbo delirante portano il soggetto a vedere sentire percepire cose che non che non sono però dobbiamo dire che non sembrerebbe che ci siano sì infatti ma comunque eventualmente dovrà essere un'altra volta nicolai ti ringrazio tantissimo è stato molto chiaro e quindi ringrazio anche i telespettatori buona serata a tutti